Sette anni di spending review dal 2007 al 2013 nelle case degli italiani hanno visto modificare generalmente a ribasso redditi, prezzi delle case, acquisti di auto e di beni durevoli. E' ciò che emerge da uno studio del sole 24 ore che ha analizzato provincia per provincia 10 indicatori della crisi che dal 2007 affligge il nostro paese. E' stilato parametro per parametro la relativa classifica e non vara la provincia piemontese più colpita in terza posizione ma anche Cuneo dimostra di aver subito gli effetti della massiccia spending review e undicesima con un punteggio di 58,6 a pari merito con Sassari e Udine e la disoccupazione dei dati più preoccupanti passata dal 2,24 al 6,91 con una variazione pari al 208,6% per cui la provincia di Cuneo si piazza tra le peggiori 10 d'Italia. Va meglio con la casa 66esima con il prezzo al metro quadro che è sceso dai 2.500 euro del 2007 ai 2.200 del 2013 una variazione contenuta del meno 12%. Giù il mercato dell'auto ma è una tendenza nazionale sempre nel periodo di riferimento con il 55,7% di immatricolazione in meno. Aumentano i laureati cresciuti del 5,5% oltre 60.000 a 2013. Quanto all'ambiente può tirare un respiro di sollievo la spending review familiare ai minori consumi e hanno alleggerito il sacco dei rifiuti. In provincia di Cuneo si è passati dai 641,1 kg pro capite ai 551,2% con una diminuzione del 14%. Si tratta di attribuzioni molto delicate e impegnative e ringrazio il ministro Orlando per la fiducia. Il tema delle carceri, particolarmente attuale così come la regolamentazione delle professioni, richiedono un impegno assiduo. Questo il commento di Enrico Costa all'indomani della pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri che gli ha assegnato il titolo di Vice Ministro con deleghe su materie molto rilevanti, quali la Direzione Generale della Giustizia Civile nella quale ricadono competenze sugli ordini professionali vigilati, e il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria con riferimento tra l'altro alla Direzione dei Tenuti e Trattamento, alla Direzione del Personale della Formazione, a quella delle risorse materiali e dell'esecuzione penale esterna. Non può essere certamente definito una semplice bravata quello che è accaduto durante degustazione tra i borghi a Prunetto. La festa che si è svolta nel massimo ordine e sicurezza ha avuto un solo momento critico passato inosservato al pubblico. Cinque denunciati a piede libero, quattro ventenni e uno studente diciassettenne, alcuni dei quali, seppur così giovani, hanno già fatto i conti con la legge. Durante la lunga serata del 12, cinque amici hanno addocchiato tre fusti di birra accantonati. Nella confusione della piazza, i ragazzi si sono messi all'opera per appropriarsene, ma sono stati notati dalla pattuglia dei carabinieri di Monesiglio. Dopo l'intuizione dei militari e le conferme dei responsabili della manifestazione, che non hanno riconosciuto i cinque come parte dell'organizzazione, è scattata la denuncia per furto aggravato, mentre i tre fusti sono stati restituiti al legittimo proprietario. Ci sono anche i vini di Langero e Monferrato nella top 30 dei migliori distretti italiani nel settore delle esportazioni. Nel 2013 i pregiati prodotti nostrani hanno generato un volume d'affari superiore ai 292 milioni di euro, in crescita rispetto al 2012, in cui erano stati 264,1. E c'è una decisa accelerazione anche nei primi tre mesi del 2014. In particolare sembra essere ripartito il mercato tedesco da sempre il principale motore della crescita dei distretti italiani e si legge nel monitor dei distretti del Piemonte, realizzato dal servizio studi di Intesa San Paolo. In questo contesto si citano anche i dolci di Albaicuneo per la crescita sul mercato cinese. Sarà al piccolo comune di Elva il teatro naturale dell'attesissimo concerto di Ferragosto che torna in Valle Maira dopo 12 anni. La 34esima edizione del tradizionale appuntamento estivo nato nel 1981 per volontà del maestro Giovanni Mosca avrà la sua cornice in località Piandigoria, a una conca poco distante dal collo delle Cavalline, a 1900 metri di quota, dove l'orchestra sinfonica Bartolomeo Bruni di Cuneo si esibirà in un grande concerto di musica classica trasmesso in diretta dalla RAI. Anche quest'anno la trasmissione è prevista dalle 13 alle 14 con un fuori onda dell'orchestra. La manifestazione è stata presentata in provincia lunedì 14 luglio. In questo momento stiamo vivendo l'abbandono da parte dello Stato. L'Italia minore è la provincia che produce e che mantiene le metropoli. È oggetto di abbandono da parte dello Stato. Lo ha denunciato il sindaco di Alba Maurizio Marello durante il seminario di presentazione del quaderno 22 della collana della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Langeroero, Tradizione Innovazione. È un abbandono che viviamo ogni giorno, ha spiegato il sindaco, con i tagli nei trasferimenti e con la mancata certezza di riferimento nella pubblica amministrazione superiore. Stiamo assistendo ad una smobilitazione, ogni giorno combattiamo per garantire i servizi ai nostri cittadini cercando di fare la nostra parte e buona fetta della giornata la dedichiamo a porre rimedio ai servizi che lo Stato non eroga più, alle risorse che dallo Stato non arrivano più alle risposte che dallo Stato non arrivano più.